Un calendario dove è fatto da noi soccorritrici tutte ragazze, ragazze di varie età e varie archi della giornata. Vi siete spogliate della vostra divisa tradizionale? Esattamente, abbiamo rivestito vesti quotidiane diciamo, insomma momenti della giornata. Tipo? Tipo ad esempio quando fai colazione oppure quando cucini con lo scolapasta oppure con il capodanno, insomma queste cose così. No vabbè, all'inizio è un po' imbarazzante, sono un po' timida, però poi è stato divertente. È stato fatto per una buona causa? Esattamente perché non siamo molto fortunati dal momento che si rompono sempre le ambulanze e i nostri mezzi e quindi abbiamo fatto questa cosa divertente per prendere anche un po' di soldi dal momento che l'associazione non impullola di soldi diciamo. Non è che siamo costrette, l'abbiamo fatto per diciamo, anche per farci conoscere insomma. Una cosa simpatica, attirare persone, magari altri volontari, ingrandirci. Ed è stato naturale posare davanti al fotografo? Sì perché alla fine non era impegnativo, cioè non dovevi stare in posa, potevi muoverti liberamente. La foto migliore diciamo era quella che abbiamo messo sul calendario. A me è venuta l'idea. È nato così, un bel giorno ho pensato che per raccogliere qualche fondo per l'associazione di fare un calendario, ma di solo donne. Visto che tempo fa è stato fatto di soli volontari, maschi, ho deciso di farlo, ho pensato di farlo così. Ho coinvolto un po' tutte, perché l'idea è piaciuta, tra mille imbarazzi, mille divertimenti, perché poi durante le pose ci sono stati proprio dei momenti di divertimento. E abbiamo realizzato questo calendario. Il motivo per cui l'avete fatto? E il motivo è sempre per raccogliere fondi per l'associazione, che purtroppo non avendo aiuti dall'esterno dobbiamo un po' arrangiarci noi.